Sono stato in quella scatola tutto il tempo? Che tipo di posto è quello? Non riesco a ricordare niente. Lisa ti ha detto che parteciperà al campo nella giungla? No, non l'ha fatto. Pensi che sia pianificato? Non lo so. Forse voleva farci una sorpresa. C'è qualcosa laggiù. C'è un incendio. Non sono solo su quest'isola. Ma chi altro c'è? Non viene a lezione di matematica domani? Lisa è davvero in tv. Lo spettacolo sembra emozionante. Devo assolutamente vederlo. C'è ancora un po' di gente lì dietro. Cosa stanno facendo qui? Forse possono aiutarmi. Ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto. Non so dove mi trovo. Lisa, ci sei anche tu? Perché nessuno mi ha detto che saresti venuta. Chiara, cosa stai facendo qui? Sono stato invitato. Proprio come tutti gli altri. Invitato per cosa? Per la nuova stagione del Jungle Camp. Ecco perché siamo qui. Siamo al campo nella giungla? Tutti i nostri partecipanti sono arrivati al campo nella giungla. Possiamo iniziare la nuova stagione. Chi pensi sarà la nuova regina della giungla? O dopo tutto sarà un re della giungla? Quest'anno tutto è davvero possibile. Sì, siamo in un campo nella giungla. La nuova stagione di Ima Celeb, Get Me Out of Year inizia oggi. Quindi sei qui volentieri? Sì, certo. Voglio davvero essere la regina della giungla. Scusa, tesoro. Ma può esserci solo una regina della giungla? Sì, ho un re della giungla. Cari candidati, tutti, per favore venite qui. Stiamo facendo le interviste adesso. Forza Lisa, sarà emozionante. È bello avervi tutti qui. Stiamo per presentare i candidati per questa stagione. Prima di allora, faremo una breve pausa pubblicitaria. A presto. Ancora pubblicità? Lisa, la tua manager, ti aspetta sul retro. Quale manager? Voleva parlare con te. È meglio che tu vada da lui per un minuto. Ciao Lisa. È bello rivederti. Sei stato tu? Sì, ben riconosciuto. Ti picchierò e ti scorreggerò addosso. Dovresti ringraziarmi. Grazie per cosa? Mi hai rapito. Avevo bisogno di te nello show. Devi vincere e diventare la regina della giungla. Allora sei una grande star. Non voglio vincere. Voglio solo tornare a casa. Mi dispiace ma sfortunatamente non è un'opzione. Come facciamo a sapere se Lisa è lì volentieri? Possiamo chiamarla. È nel campo della giungla, non c'è internet. Perché non posso andare a casa? Perché allora ti odiano tutti. La tua carriera di influencer è finita. Quindi cosa? Non mi interessa. Sì, ma pensa alla tua famiglia. Tutti rideranno di loro, non importa dove tu vada. Iiii, fate uscire la mia famiglia dal gioco. Allora vinci lo spettacolo. Se vinci, ti lascio andare. Anna, puoi andare al colloquio. Ci vediamo dopo ragazzi. I tifosi mi appartengono. Come valuti le tue possibilità? Gli altri non hanno scampo contro di me. Può esserci solo una regina della giungla. E conquisto sempre il cuore dei tifosi. Ti comporti bene nella giungla. Finché non ci sono scarafaggi in giro, per me va tutto bene. Questa Anna non si adatta affatto allo spettacolo. Sono sicuro che sarà la prima a volare via. Timo, sei il prossimo. Ricorda, abbiamo bisogno del maggior numero possibile di spettatori. Nessun problema, padrone. Ti faccio trovare il pubblico. Hai intenzione di vincere? Sicuramente. Chi altro dovrebbe vincere? Le ragazze se ne vanno volontariamente quando vedono il primo ragno. Qual è il tuo punto di forza più grande? Sono tenace. E non mi arrendo mai. È così che mi sono laureato anche l'anno scorso. Dovremmo andare alla polizia? Fammi aspettare ancora un po'. Lo spettacolo sta diventando emozionante. Clara, puoi presentarti adesso. Devo prestare attenzione a qualcosa? No, sii te stesso. Tranne che non ottiene alcun click. Allora sii qualcun altro. Ok, ho capito. Perché sei qui? Ho vinto il German S Next Top Model. Ora voglio vincere anche al Jungle Camp. Chi è il tuo nemico più pericoloso? Sicuramente Lisa. Ma siamo amici. Mi piacciono. Quanto tempo puoi sopravvivere nella giungla? Finché mi diverto, sto bene. È la tua prima volta nella giungla? Sì, e tu? No, ho vissuto qui tutta la mia vita. Non hai mai vissuto in una città prima d'ora? No, ma ho la mia casa sull'albero. Siete i benvenuti a trovarci. Sto preparando una zuppa di mosche per noi. È il mio piatto preferito. Uh sì, dai un'occhiata. Forse quando lo spettacolo sarà finito. Mugli, è il tuo turno. Ci vediamo al campo. Quanti anni hai? Ho 12 anni in anni umani. Ma in età canina ho già 94 anni. Quali sono le tue possibilità di vincita? Gli altri non dureranno a lungo nella giungla. È pericoloso qui. Non siamo qui per divertirci. Sei stato il Becciorette quest'anno, giusto? Sì, è vero. Ci conosciamo? Ti ho già visto da qualche parte. Ero laureato l'anno scorso. E sono una modella di biancheria intima per Calvin Klein. Ok, grazie per le informazioni. Hai mai mangiato vermi? No. Ne vuoi una? U porta via quella cosa. È completamente disgustoso. Ok, quello che vuoi. Altro per me. Lisa non risponde ai miei messaggi da ieri. E non risponde al cellulare. Perché mi ha dato l'ultima rosa? Pensavo che stessimo insieme adesso. O forse le è successo qualcosa. Qualcuno le ha rubato il cellulare? Come funziona adesso? Come si vince questo circo? Devi essere l'ultima persona nel campo. Ancora una volta ci sono delle sfide. Qualcuno vola via ogni volta. Ok, e quando è la prima sfida? Cari partecipanti, venite alla cascata per il vostro primo compito. La prima sfida è adesso. Questo non può essere il caso. Lisa non riceve affatto i miei messaggi. Vado a trovarla per un minuto. Allora posso chiedere loro cosa c'è che non va. La prima sfida va dritta al punto. Per i nostri partecipanti, si parte verso la cima dell'isola. La prima sfida li attende lì. Sei pronto per la prima sfida? Sono nata pronta, tesoro. Cosa facciamo oggi? Inizieremo con una piccola prova di coraggio. Va bene. Finché non devo andare in giro senza lucidalabbra, va tutto bene. Cosa intendi esattamente per prova di coraggio? Lo scoprirai subito. Seguimi e basta. Lisa vive qui. Forse è a casa a cercare il suo cellulare. Mi limiterò a suonare il campanello. Ciao Lisa. Sono io, Emilio. Sei a casa? Non riceverai i miei messaggi. La porta è aperta. Ci vado solo per un minuto. Ciao Lisa. Sei a casa? Sono io, mi manchi. Qual è la prima sfida? Non ne ho idea. Ma sarà sicuramente eccitante. I rumori provengono dal soggiorno. Lisa è sicuramente lì. Cosa stai facendo qui? Oh mio Dio. Emilio, sei tu? Ah sì, e tu chi sei? Sono il tuo più grande fan. Sapevo che Lisa ti avrebbe dato la rosa. Posso avere un autografo? Anche Lisa è qui? No, non adesso. Aspetta un minuto. C'è Lisa in tv? Siamo quasi arrivati. Spero che tu non abbia paura dell'acqua. Sei pronto? Ho del trucco extra impermeabile. Sono così pronto. Va bene. Lì dietro c'è il punto più alto dell'isola. È qui che si svolge la nostra sfida. Cosa stiamo ancora aspettando? Andiamo. Forse dovrei partecipare anche alla prossima stagione. Il signor Kunze nel campo della giungla. Sarebbe qualcosa. Siamo arrivati. Benvenuto alla tua prima sfida. Stiamo scattando qualche selfie qui? No, non completamente. Il re della giungla deve essere corazzoso. Quindi oggi mettiamo alla prova il tuo coraggio. Non dire che dobbiamo pubblicare un'immagine inedita. No, devi saltare laggiù. Sei pazzo? Sono almeno 20 metri. Se vuoi passare al turno successivo, devi saltare. Perché Lisa è in un campo nella giungla? Neanche lei ci ha detto niente a riguardo. Penso che il loro manager li abbia iscritti lì. Però non salta davvero laggiù, vero? Se vuole andare avanti, sì. È un campo nella giungla. Gli stanno succedendo cose pazzesche. I nostri partecipanti stanno affrontando la loro prima sfida. Chi passerà al turno successivo? C'è una sorpresa che aspetta il primo a saltare. Ricordatelo ragazzi. L'ultimo rimasto qui vola via. Ci vediamo dopo ragazzi, ciao. Il tipo si è appena buttato giù. Chi è il prossimo? Sono stato in grado di fare quello che può fare lui per molto tempo. Non vuoi davvero buttarti da lì, vero? Perdo abbonati ogni giorno. Questo deve cambiare. Non importa quanto costi. Auguratemi buona fortuna ragazzi. Entrambi i nostri re sono già più avanti. Vediamo quale delle nostre regine arriva al turno successivo. Ehi, che succede? Non molto è con te? Nemmeno. Devo andare in bagno. Ok, ma non qui, per favore. Questo attira animali selvatici. Hai ancora un minuto. Chi non si sarà buttato entro allora verrà squalificato. Cosa stai dicendo, Lisa? Saltiamo insieme? Non volevo nemmeno far parte di questo spettacolo. Sì, ma ora sei qui. Sfruttalo al meglio. In realtà, hai ragione. Iii, smettila di escludermi. Comunque non salterai, Barbie. Come mi hai appena chiamato? Forza, Lisa. Andiamo. Su, Lisa. Salta prima di essere squalificato. Sei pronto? Sì, passiamo a tre. Uno, due, tre. Cos'era quel suono? Non so cosa intendi. Sai esattamente cosa intendo. Smettila di scoreggiare. Questo attira gli squali. Da quando gli squali sentono questo odore? Non ti piace quando uno squalo scorregge in casa, vero? Si è davvero buttata. Spero che stia bene. Non ti devi preoccupare di questo. Quella è Lisa. È già sopravvissuta a cose molto peggiori. Scusa Anna, ma immagino che per te sia finita. Lo spettacolo è comunque stupido. Devi ancora pronunciare la frase. Quale frase? Sai a cosa mi riferisco. Allora posso andare finalmente? Sì, puoi tornare a casa dopo. Ok, quello che vuoi. Sono una celebrità. Fatemi uscire da qui. L'avete sentito, cari telespettatori. Il nostro primo partecipante deve lasciare l'accampamento nella giungla. Ora ne sono rimasti solo quattro. Ma solo uno di loro può diventare il re o la regina della giungla. Ce l'abbiamo fatta. Sì, grazie per l'aiuto Clara. Nessun problema. È a questo che servono gli amici. Possiamo uscire dal fiume laggiù. Gli altri sono già qui. Eccoti. Perché ci è voluto così tanto? Hai fretta o cosa? Se lo chiedi così, sì. Perché allora? Comunque non hai niente da fare tutto il giorno. Presto sarà buio. Questo è quando è pericoloso nella giungla. Dobbiamo tornare subito al campo. Cosa dici, Mugli? Proseguiremo e accenderemo il fuoco. Devi procurarti dell'acqua. Ok, a presto. Dove dovremmo trovare l'acqua adesso? Ci sono alcune noci di cocco lassù. Che ne dite di questo? Sì, hai ragione. Sono perfetti. Ok, mi aiuterai? Fai attenzione, Clara. Ne cade una. Clara, stai bene? Ricordo tutto. Lisa non è la mia ragazza. Pagherà per questo. Quante tende ci sono nel campo? A, una. B, due. C, tre. Lascia un commento. C, tre. C, tre.